I nove non possono più nascondersi. Ciò che è a loro sarà nostro! Sì! Sì! Notum comanda! Dovete concederci clemenza! Non dovresti conoscere simili testi. Tu, una schiava ignorante! Non sono una senziata. Che stai dicendo, Scarlet? Toglietemi le mani di dorso! Non può essere vero! Credo, credo che moriremo! Puoi? 3, 2, 1, 2, 3, 2, 1... Grazie a tutti.